Se volete acquistare crediti andate su gold.com e con il codice DRED avrete il 5% di sconto Bene ragazzi e bentornati qui finalmente sul rotto di Giovan Coop Signori una serie che sta quasi per finire signori Non guffarla Non ideofo Ma qui come c'è sempre il magico Giastron incredibile Come vedete dal menu Siamo a 7 punti, dobbiamo arrivare a 12 e a 18 c'è la promozione Nella fantasiosa divisione 1 Quindi oggi ci faremo le partite sul mio canale Prossimo episodio su quello di Ron Quindi mi raccomando passate lì E il massimo delle aspettative sarebbe che nelle 6 partite che mancano potremmo riuscire ad arrivare in prima Ma non lo diciamo Ma non la guffiamo Ma non ce la facciamo Ma neanche secondo me Ma neanche secondo me Comunque signori ci vediamo in partita Real Madrid, Borussia Dortmund No no zio no Partiamo subito così Si parte zio dai Vai 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 Concentrato Io ho paura del Real Dell'attacco del Real Un po' tutto del Real Albume Lo stasci tu Dai lo sto rossetto No Pensavo che lo prendesse dal taschino di dietro Subito vedo c'è il marcolino Subito No Dritto No Non ci credo Ti giuro è andata dritto Eh lo so è andata dritto Ragazzi è quello Che è più nessuno però qua Dove sono le persone Bravo E se è fuori già qualche Abre un più E la madonna ci arriva Ci arriva albume Ma no Ma no Oddio zio Che ha preso Che ha preso Che cosa ha preso No No Oh mio dio mio Deve ho costruito la palla a terra Ragazzi quando si capisce un cazzo Eh vabbè ha filtrato Ha filtrato Vaffanculo va Avevo dei problemi in difesa Dove va Che cosa ha fatto No No vai in porta No cosa stai facendo No vabbè E' ubriaco Dai Ciao ragazzi Ce ne abbiamo le occasioni però Non d'abbastanza Bella Buonissima Zia è buonissima Pallonetto No Pischek no Sotto al 7 Pallonetto Pischek non sa neanche come si scrive Ho detto non può tirarla così lontano Con sto scarpone Ha tirato il tino Sotto al 7 Oh mio dio Incredibile Guarda che cazzo ha tirato Bam Mai nella vita che mi riuscirà una bella leggenda Mai più Che c'entra Bene benissimo Sotto Bella Bello Cazzo Tocca la tocca la tocca la Tira Oddio che bella azione zio Oddio tira Tira l'arcolino Non ci credo No zio è la azione più bella che abbiamo fatto quest'anno Malttonna cazzo migliere No Oddio Ronaldo di merda cosa l'ave appreso Passato a Ronaldo diciamo che non è mai una buona tecnica Eh no ci ho provato Album Buone 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 Vaci 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 Buonissimo Fallo Oh No No A due all'ora sul palo non può farlo zio Bellissima Si fallo 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 Ha numerato il cazzo Non ci credo Ma basta ste cose No non ci arriva Che portiere L'aspetto il momento in cui fanno un'azione e vengono già fanno gol Fallo? Fallo No Inserito Inserito Non ci credo Ma vai un po' più piano pallina di merda Finito Niente raga No la pallina che schifo Incredibile Incredibile Voglio aspettare sotto i momenti che scrivate Eh ma dite che è sempre colpa del gioco Beh in post C'è Perché non è entrato Borussia Borussia intanto Copertura a palla di Marconino Inserimento con spinta Vai così Di Castro Castro Manno Buona per un maccolino Oh mio Dio Fallo Oh mio Dio Non è vero Non è possibile Vado di là Vado di là Vado al centro Che c'ha purgato Io non ci credo il primo tiro che fa in post Parca troia Vaci Tira la giaborda Figlio di puttà No dai zio Veramente Io non gioco più oggi No In serio Dai zio Ha fatto un tiro Noi abbiamo fatto 20 Così li abbiamo fatti Madonna Che palle Che palle Ma tocchi Vai tira Tira Sì Tiro Impossibile Tiro Tiro più difficile Questo mai nella vita sarebbe Non sarebbe mai entrato Non avrei mai preso la porta Com'è possibile A parte che c'ha 5 stelle piene debole Però c'è Vengono tirati di molto più facili Qualcosa se quest'anno vinciamo la divisione 1 La vinciamo anche contro FIFA Che prendiamo C'è il centro Il centro è libero Dalla di prima Gioco di merda Porco 2 Dai Tira Si così Si così Si così Cazzo Se non entrava questa Si Si Puttana Se non entrava questa Oh dio Quando ho visto il palo ho detto no dai Aspetta un attimo zio che ho sparato la reaction della vita qua Dio buono zio Porca troia zio questa se l'ho sofferta st'ultima zio Questa è stata un'agonia incredibile Sai quali tremano le mani che dici minchia devo farlo con la che sta succedendo Io mi stavo tirando a dire come Obama Young per fare Quale è la merda Quale è la merda Liverpool Signori Liverpool Borussia Liverpool Concentriamoci Vai 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 qualcosa fa Oh madonna No Ma che scelta Va bene Si è brutta Si Si Non sarebbe mai rientrata Quello Tipo grosso contro l'altralia che ha subito il spallo Anche di là Bellissimo Ma domanda con che velocità Cazzo Ma ho ucciso Va bene No 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 dai Si sei infame Oh non importa Cornuto Si Obama Taglio di qua Obama Vai Obama Che sei veloce Fallo Ma Dio Buono Obama libero Si si Obama libero Obama libero fallo Obama Fallo Obama Eh Dio cioè Io non so più cosa dire Tunnel Busta No buste con pagine di riviste No Busta con pagine di riviste Giudo il prossimo lo tiro sul primo palo Non incrocio più Come come prima Ecco Hai visto il portiere il movimento che ho fatto È sveduto Proprio dal gatto pardo C'è chinato in modo incredibile dal secondo anello Oppa Si è abbassato perché stai in piedi La prendeva in faccia Chi fa 13 La prendiamo Ce la fa fare la stazione No No Sono sbilanciati Ce la possiamo fare Basta buttarlele in porta Mi hanno fatto un tiro in porta Allora comunque Beh c'è forse Cambia un attimo Ma no La lentizia Che ci posso fare Che ci posso fare Che ci posso fare L'ho passata 8 ore fa L'ho passata L'ho passata 8 ore fa L'ho passata 8 ore fa Rimasta guardarla Vaci sei più veloce Sei più veloce fratello Corri fratello nero Corri fratello Bravissimo fratello Mi attira l'azio No Porca scurtle di merda Niente era una di noi Detesto no? Porca Eva Porca loia Bene Non bene Tanto questo mi pappa No Era mia Sorry Dio mi era illuminato Ma non era smelter Assolutamente no Guarda quel tacco Gli era passata Eh No 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 ste cose No perché è andato le vuote Di schiena il nostro non avrebbe segnato C'è tutti quei centimetri Per fare le cose così Sì Oh mio Dio Marcolino Marcolino Però il suo 71 Incredibile Incredibile Marco Sti che cazzo 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 Continuiamo Possiamo 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 Tutti più Scaccia Tecnicamente Siamo più forti Non entriamo Con la palla Madonna Fuori gioco qua Tira 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 Oh mio Dio Taglia Taglia Oh Solo No Siamo in mille In area Oh Dai Sono Serio Non ci No Vabbè Guarda che li fanno loro No vabbè No vabbè Cosa No non ci credo Fa l'uscita No No È la cosa No No È incredibile È incredibile È incredibile No dai No così no È incredibile No Tutto il tempo A far l'assedio Guarda te Guarda Cagare Che partita Guarda Guarda Non è fallo quello No è altro No Finita Vabbè raga A quanto pare oggi FIFA ha deciso comunque Che la palla Non doveva entrare Siamo a 11 punti Ce ne mancano 7 e 3 partite Speriamo di farcela Nel ovviamente 5 tira No Speriamo di farcela Nel canale di Ron Noi ci sentiamo la prossima Lasciate un bel like Un commento Mi raccomando Prossimo episodio Sul canale di Ron 16 tiri Bella Bella raga Ricordate che in descrizione C'è G2A per giochi E abbonamenti Scontatissimi